Abbiamo affrontato situazioni di emergenza in alcuni territori, stiamo uscendo in pratica dalle zone rosse, le zone messe in quarantena, Ballo di Ediano è uscito, abbiamo prolungato di una settimana Ariano Erpino, Lauro, ad Ariano Erpino abbiamo avuto una situazione difficile, ci sono stati problemi, lo so anche io, ma credo che l'ASL abbia lavorato nel complesso in maniera seria, voglio ricordare a qualcuno che fa speculazioni politiche soprattutto su Ariano Erpino che quando dobbiamo mandare personale medico negli ospedali più periferici i medici non sono disponibili, anche in Irpinia abbiamo selezionato una serie di medici, di professionisti che si sono orientati però sull'ospedale Moscati come è comprensibile, quindi si fa fatica negli ospedali più periferici a trovare anche il personale da impegnare, per questo bisogna avere rispetto per il lavoro che viene fatto dalle ASL, ma credo che anche lì siamo alla vigilia del superamento della zona rossa e della fase di emergenza più grave.